La prima delle due learning talk è quella di Matteo. Matteo è un conterraneo, quindi bello, vive il medio campidano. È un full stack developer e open source evangelist. È appassionato di informatica, ma ha trovato praticamente il suo cammino dopo una stage che gli ha aperto le porte di Wordpress. E quindi ora è anche un affezionato frequentatore della community e dei WordCamp. E oggi ci offre un punto di vista interessante partendo dall'esperienza di Drupal che è di recente diventato un CMF, un Content Manager Framework. E quindi Matteo ci dirà come anche Wordpress ha il potenziale per andare verso la stessa strada. Ok, grazie Matteo. Ciao, grazie. Ciao a tutti. Oggi parleremo, come anticipato Alice, della differenza tra CMS e CMF con un particolare occhio al back-end e quindi a come si realizzano moduli, plug-in, le regole di routing, il pattern model web controller, la differenza tra post-type e tassonomia e content management. Inizio prima a presentarmi. Sono uno sviluppatore web e open source evangelist. Come sviluppatore web mi occupo principalmente di PHP. con Wordpress mi piace saltare tra il back e il front, invece su Drupal mi sono formato come back-end. Quelli a fianco alla mia faccia sono alcuni dei progetti con cui lavoro. Tra questi c'è Doing, una piattaforma in cui dedico quasi il 90% del mio tempo. Con questa start-up inizialmente utilizzavamo un CMS proprietario. Con un cambio di CTO abbiamo iniziato a una migrazione con Drupal. Una cosa particolare è che Drupal dalla versione 8 è diventato un CMF, quindi togliendo la S e mettendo la F di framework. Come tutti i sviluppatori conosciamo, lavorare con un framework ci dà moltissime comodità. Drupal, per chi non lo conoscesse, è un CMS open source, famosissimo in ambito government e big company. Drupal della versione 8, come ho detto, ha integrato Symfony. Symfony è uno dei framework PHP più utilizzati. È rilasciato tramite una licenza MIT, quindi è open source. Solitamente per lavorare su Drupal si fanno le classificazioni che facciamo anche con WordPress, per esempio. Creiamo i moduli, oppure creiamo tassonomie da CMS e lavoriamo sui temi. Con la creazione dei moduli, per esempio, creo la mia directory, inizio a metterci i file principali, un Info YAML e un Modules. Modules, questi due servono come l'intestazione del nostro punto PHP di WordPress. E poi creo le mie funzioni, che possono essere o una rotta, o il path che noi troviamo in alto, oppure ci aggancio un hook, un uncino. A una determinata azione io eseguo altre. Le tassonomie. Le tassonomie sono, come nel WordPress, delle categorizzazioni dei nostri oggetti, tipo i tag o le categorie. I custom type, invece, sono gli articoli e i nostri post. I custom field, invece, sono tutti gli attributi che i nostri articoli e post utilizzano. Una delle funzionalità che mi piace particolarmente di Drupal è Drush. Drush è purtroppo un modulo, quindi non è installato nel core, però mi permette tramite riga di comando di eseguire backup, di fare export e import, sia di file che delle configurazioni, e agire sulla cache. Una cosa interessante della cache di Drupal è che non solo mi permette di memorizzare i template, ma mi permette anche di salvarmi i metadata. Il database di Drupal è un po' particolare. è un po' particolare. Su WordPress, per esempio, abbiamo le nostre tabelle in cui salviamo tutti i dati dei nostri post, dei nostri articoli, eccetera. Purtroppo, Drupal utilizza una tabella per ogni field. Quindi, se il nostro custom type ha 10 attributi, quando mostrerò il mio attributo, dovrà fare 10 join. Se, per esempio, un utente personalizzato ha 25, 30, 50 field, deve fare 50 field. La cache di Drupal ci permette anche di mettere in cache un oggetto, non per forza una vista. Quindi, per risparmiare tutto il tempo che utilizziamo per generare. Partiamo subito con un esempio. Essendo un lightning talk, ho preferito mettere in pratica un esempio pratico. In questo caso, il nostro plugin sono le quotes del giorno. La funzionalità consisteva in questi punti. Sono composte da una frase, un nome utente, la data. Queste quotes posso vederle sia singolarmente che dentro un archivio. Ogni volta che visito una pagina, qualsiasi pagina sia, voglio che me ne stragga una casualmente. Ok, primo punto. Drupal permette semplicemente da CMS la creazione di un custom type con tutti i field. Non vi ho detto prima che, nell'esempio, io cerco, anzi, non voglio utilizzare plugin esterni o moduli esterni, quindi tutto nativo. Quindi, secondo punto, la visualizzazione del nostro custom field. In poche parole, Drupal in automatico mi crea la singola pagina, la vista è la singola pagina. Però, purtroppo, non esiste la pagina archivio. Quindi, andremo a crearlo con un modulo. Anche per la creazione della visualizzazione di una quotes casuale, avremo bisogno di modificare il nostro modulo. Quindi, imposto il file in questo modo. Creo la cartella quotes, dentro ci metto quotes.yaml, quotes.routing.yaml, quotes.modules e quotes.controller.php. Quest'ultimo lo metto dentro quotes.src.controller. Più o meno sulla destra vediamo come saranno strutturati i testi dei nostri file. Il primo è soltanto un'intestazione. Quello che vedremo nel nostro pannello di controllo per attivare e disattivare il nostro modulo. Il secondo è quello che gestisce la rotta. In poche parole, andando su slash, hub, quotes, mi genera il nostro archivio di quote. E poi abbiamo le nostre funzioni. Ora, la prima funzione è quella che ci serve per generare il nostro hub. Quindi, in modo abbastanza aggressivo, comunque facciamo subito una qui nel database, con le classi comunque che ci offre Drupal. chiediamo il dato che ci interessa, questo è l'id del nostro custom type, la condizione, quindi deve essere di tipo quota, come ordinarle, che deve essere pubblico e non una bozza, e poi esegue la nostra query. Qua l'ha formato in un modo che ci viene più comodo. Questo serve in poche parole per passare quello che noi abbiamo trovato con questa query al nostro tema. Questo, invece, è quotes.module. Quotes.module è uno dei file molto simili al nostro function.php. Appena che noi avviamo una pagina, queste azioni vengono sempre calcolate. Questo, in poca parola, ci serve in particolar modo per assegnare al controller che abbiamo generato prima il template. Invece, questo è l'uncino. Questo ci servirà, invece, per generare una quotes casuale. Come vediamo, abbiamo sempre la solita query, mettiamo l'entità che ci serve, la condizione, l'ordine in cui la vogliamo, l'eseguiamo, e poi assegniamo a variable l'id dell'oggetto. Variables è una variabile che noi ci passiamo per tutto l'accaricamento della nostra pagina di Drupal. Ok, adesso sicuramente vi state chiedendo questa domanda. Siamo al DrupalCon oppure a WordCamp? Penso che tutti sappiamo che il padrone di casa qua è il WordCamp. Quindi, come si dice dalle mie parti, ha io a casa. Quindi, Wordpress è un CMS leggermente più giovane, tre anni più giovane, che senza dubbio, visto che siamo qua, è il nostro preferito. Come sviluppo su Wordpress? Creo il mio plugin oppure agisco sul ChildThemps. Anche se modifico il mio tema, preferisco sempre farlo nel ChildThemps. La vera forza di Wordpress è che c'è tutto. Esistono plugin per tutto quanto ed è il CMS, compresi il CMF, che ne ha di più. Qualsiasi cosa ne vogliamo fare, molto probabilmente c'è già. E poi è una gestione KISS, Keep it Simple, in cui è molto facile comunque per uno sviluppatore creare i nostri field, le nostre funzioni, oppure aggiornare i temi, aggiornare i plugin, o qualsiasi altra componente noi abbiamo. purtroppo Wordpress nativamente non ha un sistema molto forte come quello di Drupal per gestire la cache. Di solito questi sono tre plugin che utilizzo spesso per ottimizzare. Li ho messi in ordine con quale frequenza li uso. Una cosa bellissima di Wordpress è il suo terminale. WpKli è già integrato dentro Wordpress. È già integrato anzi una cosa interessante è che uno può installare WpKli direttamente da Composer senza avere Wordpress. È da WpKli installare Wordpress. E questo comunque ci permette dentro WpKli anche di fare tutte le attività che noi facciamo da pannello di controllo. Disattivare e attivare plugin gestire i temi aggiornarli e questo tipo di attività. In altretutto anche comunque ci permette di fare le copie di backup di fare manutenzione oppure anche in modo abbastanza invasivo modificare drasticamente il contenuto del nostro DB. Per esempio in caso di una migrazione noi possiamo semplicemente fare un controllo tramite WpKli tutte le volte che appare il vecchio path e sostituirlo. Tassonomie. Ok, una cosa brutta di Wordpress bisogna dirlo è che il CMS non ci permette nativamente di creare nuove tassonomie a meno che noi non installiamo un tema uno per esempio il simple taxonomy oppure apriamo il nostro function PHP oppure il nostro modulo e ce lo aggiungiamo direttamente tramite codice. Content Types funziona nell'esatto modo. Wordpress non ci permette di farlo nativamente però sempre con un plugin come custom post type UI uno di quelli che uso più spesso oppure sempre da function PHP nel nostro shell temps. Quando mi capita di lavorare con altri sviluppatori io utilizzo questo plugin questo plugin WP Model View Controller ci permette di dividere il codice del nostro plugin in modo molto severo la vista il modello e il controller per chi non lo sapesse il modello è tutta la gestione del database la vista dell'interfaccia e il controller su tutte le chiamate che ci sono tra la nostra vista e il modello è molto semplice creare nuove tabelle creare tutti i form tutte le viste e ci dà la possibilità di trasformare Wordpress in proprio e vero framework però torniamo all'esempio di prima qua ripeto i nostri punti i nostri quotes sono composti dalla frase il nome dell'autore e della data possiamo vederle singolarmente e dentro un archivio ogni volta che visito una pagina me ne sarei una casualmente questo come lo faccio allora il CMS nativamente non mi permette di creare un custom post type e neanche i suoi field quindi creeremo il nostro plugin ogni custom type su Wordpress però nativamente ha già le regole di routing sia per il singolo oggetto che per l'archivio possiamo poi aggiungere in questo nostro plugin che noi creeremo anche la possibilità di estrarre casualmente una quotes iniziamo la composizione del nostro file quindi creo la nostra cartella quotes ci metto dentro soltanto un file quotes .php una delle cose bellissime di Wordpress è che è molto meno prolisso dentro quotes iniziamo a metterci la nostra intestazione il nome del plugin i vari dati e poi iniziamo con la parte di codice per il primo punto cioè creare il nostro custom type abbiamo queste righe inseriamo il nome come vogliamo chiamarlo come vogliamo che appaia nel nostro backend e tutti gli altri dati e poi diciamo che questa funzione ad action si parte all'avvio grazie al nostro init qua in rosso invece sono i due punti che mi permettono di realizzare il secondo punto ovvero come chiamarlo da rotta e come chiamare il nostro archivio quindi abbiamo già risolto con una semplice funzione i primi due punti il terzo punto è sempre abbastanza semplice in poche parole genero la query qua dico che voglio l'ordinamento random voglio un solo elemento il post type e poi faccio il loop di quello che è mio genero per per poi visualizzarlo abbiamo io ho optato per un shortcode che mi chiama la funzione quindi basterà inserire al nostro frontender questa stringa dove vuole che appaglia la nostra quotes abbiamo realizzato questo in modo abbastanza semplice quindi al volo le conclusioni abbiamo visto in questi piccolissimi esempi questi sei punti quindi ricordiamoci non esiste un CMS e CMF migliore al massimo ne esiste uno adatto ogni CMS e CMF ci permette cita due vie o tramite codice o admin area questi due CMS hanno due curve di apprendimento molto diverse WordPress magari per task semplici ha bisogno di imprendimento molto più veloce molto più veloce Drupal invece già dall'inizio è molto difficile Stack Overflow e Community fanno parte del suo insieme e io vi chiedo che quando potete collaborate e facciamo parte sempre del software libero questa è una slide che per abitudine metto sempre le quattro libertà che ci hanno dato vita io vi ringrazio volevo ringraziare anche queste tre persone i work camp sono belli perché sono nodi della stessa rete io per alcuni spunti ho interrogato queste tre persone in tre work camp diversi vi ringrazio e questi sono i tre punti in cui potete trovarmi mi trovate in qualsiasi social network anche quelli improbabili tipo Mixi o quell'altro che non so neanche nominare vi trovate qua in giro nel work camp o l'after party oppure tramite email grazie grazie a tutti grazie a tutti